Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come La redazione dell'Isola dei Famosi potrebbe prendere dei seri provvedimenti contro un concorrente che ha bestemmiato in diretta Il video nel frattempo sta facendo il giro del web. Colpo di scena durante l'ultima puntata del reality show condotto da Ilari Blasi Uno dei nuovi concorrenti ha di sicuro animato la serata dei social dopo che moltissimi utenti hanno avvertito da lui una bestemmia Adesso in molti si chiedono se ci sarà una squalifica per lui oppure si lascerà correre Ma vediamo cosa è successo.Il nuovo appuntamento con la sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi di certo non ha lasciato insoddisfatti i telespettatori che si sono ritrovati davanti diverse dinamiche Per prima cosa abbiamo visto l'eliminazione a sorpresa di Marco Melandri che deve lasciare il reality show Mentre Blind e Roberta Morise si devono trasferire da Polopo per raggiungere Playa Sgamana Ma a catturare l'attenzione del pubblico, oltre alle dinamiche create dalla new entry della settimana Gwendalina Tavassi, è stato l'arrivo di Nick e Silvano due dei membri dei Cugini di Campania Dopo diversi giorni di attesa, finalmente i due sono sbarcati in Honduras Ma a creare scalpore e fermento tra gli utenti social è il fatto che uno dei due ha bestegnato in diretta tv Il video della frase ha fatto immediatamente il giro del web, tanto che in molti si chiedono quale sarà il destino dei concorrenti Ma andiamo a vedere nel dettaglio che cosa è successo.Isola dei famosi, Silvano dei Cugini di Campania Bestegna, squalificato? L'arrivo di Nick Luciani e Silvano Mechetti sull'isola di Sicuro non è passata indifferente I due membri dello storico complesso musicale italiano sono sbarcati in Honduras per iniziare il loro reality show Dopo essersi tuffati in acqua dall'elicottero, i due hanno avuto delle difficoltà a nuotare per raggiungere l'isola Una volta che il loro obiettivo si è compiuto e hanno raggiunto la riva, sono stati accolti da Alvin, che la scorsa puntata era stato beccato mentre correva, che li aspettava Ed è stato proprio in questo frangente che sembrerebbe che Silvano abbia bestemmiato Una frase arrivata ai microfoni dell'inviata dopo che il cantante ha faticato per nuotare e raggiungere l'isola Proprio nel video che immediatamente ha fatto il giro dei social, si udisce palesemente, pio Dio Adesso il pubblico si chiede quale sarà il destino dei due nuovi naufraghi e se la loro avventura finirà dopo soli pochi giorni dal loro arrivo in quanto potrebbero essere squalificati dal gioco se gli autori e la redazione confermino quanto sentito dagli utenti social Resta il fatto che in diretta nessuno sembra aver fatto caso alla scivolone di Silvano Ne Ilari e negli opinionisti si sono accorti di quella parola Non ci resta che attendere giovedì prossimo per scoprire nuovi sviluppi sulla vicenda Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video